Ecco che fanno i loro ingressi in gambo e due compagini Virtus Castelfrentano e Atletico Francavilla di Castelfrentano con la classica divisa giallorossa mentre di Francavilla con la divisa biancorossa entrano con una rappresentanza di ragazzi della scuola calcio, c'è anche un ragazzo degli allievi con la divisa di arbitro tutta gialla adesso si schiereranno per il saluto al pubblico l'arbitro, il direttore di gara e il signor Giubatti della sezione Aia di Teramo Faccio un passo avanti ragazzi, un passo avanti ragazzi così si scambiano i saluti, un passo avanti ecco c'è la scelta del campo del pallone, si salutano, i ragazzi si salutano che sia una bella giornata di sport e che vinca il migliore ragazzini allora prendete le vostre postazioni adesso se volete fare la foto mi faccio la foto sub, ecco i ragazzi si dividono, per la foto, almeno con la maglia ufficiale qua, per la foto ragazzi su veloce veloce, già me l'ha detto Gianni